Buonasera e benvenuti a Roma nella sala dedicata all'estrazione del superanalotto che possiede oggi sabato 21 marzo la ricevuta della giocata del superanalotto può vincere 9.577.624 euro. Sono già iniziate le operazioni relative al concorso numero 35. Le 90 sfere numerate per la festina vincente e il numero jolly sono state caricate con l'autorizzazione della commissione di controllo di Amoral via l'estrazione di questa sera. Le sfere sono scese nell'urno elettronico e inizia il loro mescolamento automatico. Andiamo insieme a scoprire il primo numero della festina vincente. Il primo numero estratto è il numero 58 e ne arriva il secondo numero. Il secondo numero estratto è il numero 9. Il terzo numero si inizia a vincere. Il terzo numero estratto è il numero 19. E ne arriva il quarto numero che ci porta verso il premio importante. Il quarto numero estratto è il numero 55. Quinto e penultimo numero. Quinto numero estratto è il numero 4. Con il sesto numero la festina è completa. Sesto numero estratto è il numero 7. Abbiamo i sei numeri che possono assegnare il jackpot. Passiamo ora all'estrazione del numero jolly per l'attribuzione dei premi di seconda categoria. Il numero jolly di questa sera è il numero 83. Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly. 58, 9, 19, 55, 4, 7. Il numero jolly è il numero 83. Ora passiamo al numero superstar, il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente dal terminale di gioco. Già al momento della convalida della giocata può far vincere premi istantanei da 5 euro fino a 10.000 euro. E la sua estrazione avverrà grazie a questa seconda urna elettronica già caricata con le sfere dall'1 al 90. E procediamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che il numero superstar premia anche lo 0, l'1 e il 2. Moltiplica 25 volte le vincite del 5, 100 volte quelle del 4 e del 3. Il numero superstar di questa sera è il numero 40. E controlliamo insieme tutti i numeri del concorso numero 35 del superanalotto con la sestina vincente in ordine crescente. 4, 7, 9, 19, 55, 58, il numero jolly è il numero 83 e il numero superstar è il numero 40. E l'estrazione di oggi sabato 21 marzo termina qui. Fra qualche minuto scopriremo insieme se il jackpot di oltre 9.500.000 euro è stato assegnato a uno o più vincitori. E noi vi aspettiamo sempre qui su Sizzle TV, la rete in diretta con la fortuna. Buonasera da Sizzle TV, la rete in diretta con la fortuna. Chi ci ha seguito nel primo collegamento ha potuto assistere pochi minuti fa all'estrazione dei numeri della combinazione vincente, del numero jolly e del numero superstar del concorso numero 35 del superanalotto che ha messo in palio il jackpot di oltre 9.500.000 euro. Ma ora vediamo se ci sono uno o più vincitori. E il computer ci comunica che... È stato centrato il 6! È stato realizzato nella ricevitoria Sisel di via Gorizia 16 a Sassari. Tantissimi complimenti! E dopo l'emozione ad aver annunciato la vincita del jackpot di oltre 9.500.000 euro il terzo del 2015, non ci dimentichiamo delle migliaia di altri vincitori. E questa sera abbiamo infatti ben 101.371 vincite. Ma ora vediamo nel dettaglio tutte le quote. L'unico 6 si aggiudica 9.577.624 euro Nessun 5 più 1 I 5 sono 32 e vincono 7.781 euro ciascuno I 4 sono 2.206 e vincono 114 euro ciascuno I 3 sono 62.113 e vincono 8 euro ciascuno Ora passiamo a superstare il numero stella che moltiplica le vincite del 5, del 4 e del 3 ma premiamo anche con 0, 1 e 2 punti Vediamo nel dettaglio tutte le quote Nessun 5 stella I 4 stella sono 10 e vincono 11.458 euro ciascuno I 3 stella sono 201 e vincono 807 euro ciascuno 100 euro e vanno i 2.409 e 2 stella 10 euro agli 11.801 stella E 5 euro ai 22.599 e 0 stella E il Super Analotto riparte subito e lo fa con un nuovo jackpot di 3 milioni di euro Io vi ringrazio per essere stati qui con noi E il Super Analotto vi dà appuntamento a martedì 24 marzo Sempre qui su Sisa TV, la rete in diretta con la fortuna Grazie a tutti